Se hai problemi di muffe, di condense o di cattivi odori, non devi per forza vivere con le finestre aperte, ma ti basta inserire la ventilazione meccanica puntuale nella tua casa. Molte abitazioni costruite in passato, ma non necessariamente vecchie, hanno il problema di non avere dei ricambi aree sufficienti a garantire comfort e benessere, soprattutto negli ambienti living. Negli anni passati si tendeva ad evitare la ventilazione meccanica con la falvoletta del tanto ti basta aprire le finestre. Ed il risultato, a distanza di pochissimo tempo, magari dopo aver investito pesanti somme di denaro per isolare l'involucro o migliorare le finestre, è che ci si ritrova a vivere un nuovo incubo. La scelta è vivere con le finestre aperte H24 o pensare ad altri interventi edili ingombranti, fastidiosi e molto onerosi, perché quella volta è stato seguito il consiglio sbagliato. Che fare? Ritrovarsi con un secondo cantiere in casa o più semplicemente affidarsi alla ventilazione puntuale? Tra le scelte che offre il mercato, sicuramente la ricerca su Google ti porta a confrontare un numero infinito di soluzioni e di prodotti, tipicamente monotubo, ovvero che necessitano di un foro unico, almeno da 15 o 16 cm di diametro, dove inserire queste macchine, che dovrebbero in teoria garantirti benessere. Ma se il problema lo vuoi risolvere definitivamente e non vuoi fare l'ennesima scelta sbagliata, il mio consiglio è quello di scegliere soluzioni efficaci ed efficienti come quelle che vedi a fianco a me. Elti, azienda vicentina che produce solo unità di ventilazione puntuale, ha realizzato Flow Easy, ovvero un concentrato di tecnologia in piccole dimensioni che risolve i problemi di aria viziata, impurità, umidità, polveri, garantendo la sua efficacia. In soli 56 cm di larghezza, per 28 di altezza ed uno spessore di appena 12 cm, lo puoi davvero inserire anche in spazi ridotti e lo puoi controllare con il telecomandino. Bastano due piccoli fori da 8 cm cada uno. Il suo guscio può anche essere tinteggiato a tuo piacimento e così lo puoi personalizzare ed inserire nei tuoi contesti arredati con il tuo stile preferito. Hai sempre a disposizione tre velocità di funzionamento, più una dedicata quando i tuoi figli giocano con i suoi compagni di scuola o quando inviti a casa degli amici. Al suo interno trovi un doppio filtro antipolvere che la macchina ti avvisa quando è il momento da sostituire e, mediamente due volte l'anno, con una semplice operazione sfili il filtro esausto e inserisci quello nuovo. Io ti consiglio di tenerlo sempre acceso, anche alla minima velocità, perché il suo costo anno di funzionamento è inferiore ai 5€. Se vuoi capire come risolvere il problema del ricambio aria nella tua casa e vuoi ottenere il massimo dai tuoi impianti domestici, ottimizzando il budget senza accettare compromessi, clicca nel link che trovi sulla descrizione del video e richiedi la mia analisi telefonica. Per oggi è tutto, iscriviti al mio canale YouTube per non perderti in anteprima i prossimi video e alla prossima!